Bella ragazzi, sono BeWolfers e in questo giorno di vigilia voglio augurare un buon Natale a tutti proponendovi un titolo questa volta conosciuto e chi mi ha visto potrebbe rappresentare un piacevolissimo regalo di Natale per molte persone. Sto parlando dell'arci noto di Elder Scrolls V Skyrim Special Edition. Sono certo che molti utenti storceranno il naso nel sentire questo consiglio e sono perfettamente consapevole che proporre un titolo rilasciato oltre dieci anni fa è un azzardo non da poco, soprattutto considerando che il gioco è stato rilasciato più volte e su più piattaforme. Tuttavia, questa Special Edition di Skyrim include non solo tutti i DLC ufficiali, ma anche tutti gli addon, grafiche ed effetti rinnovati, nuove missioni e un discreto numero di mods già incluse che rendono questo titolo davvero il pacchetto definitivo per tutti gli amanti giochi di ruolo. Se siete fra i pochi utenti che non hanno mai giocato a Skyrim, potreste cogliere l'occasione per godervi una delle avventure più apprezzate dell'ultima decade. Se invece appartenete alla maggior parte dei player, quelli che ben conoscono le tribolazioni dell'essere sangue di drago, allora potreste gustarvi un titolo rinnovato per un'esperienza di gioco certamente più piacevole di quella vissuta nel 2011, anno di rilascio del titolo. Ed è proprio questo effetto nostalgia, visto allo stupore per le novità introdotte, che mi ha spinto ad avvicinarmi al titolo al punto, dal proporlo anche alla mia utenza. Questa Special Edition di Skyrim è un tuffo nel passato, è un vecchio amico che ti viene a trovare e ti permette di fare un balzo indietro nel tempo che riesce a mixare sapientemente nuove e vecchie emozioni. Ripercorrere i sentieri già conosciuti e proposti con una veste grafica tutta nuova è davvero un piacere. La vastità del mondo è tale che potremo cogliere l'occasione per fare scelte videoludiche diverse. Le novità introdotte donano nuova limpa al gameplay e l'insieme di tutte queste sensazioni ci farà chiudere un occhio sui difetti del titolo, che per onestà intellettuale ci tengo a citare. Il motore di gioco, seppur rinnovato, presta certamente il fianco a critiche, soprattutto se paragonato alle produzioni più recenti. Per quanto mitigati poi, vecchi bug tornano saltuariamente a farsi vedere e soprattutto il combat system avverte tutto il peso degli anni trascorsi. Nonostante ciò, Skyrim rimane pur sempre Skyrim, ossia una delle avventure ruolistiche più riuscite e questa special edition rappresenta un'ottima occasione per far conoscere il titolo a qualche videogiocatore più giovane o per accedere alla tentazione di rivivere un'avventura maestosa condita da tutte le novità citate, magari immersi anche nell'atmosfera natalizia di questo periodo che sembra fatta apposta per andare a trovare un caro vecchio amico come Skyrim. Che siate imperiali o manto della tempesta non importa, ancora buon Natale e se questo video vi è piaciuto lasciate un like, commentate e condividete ma soprattutto iscrivetevi per non perdervi i prossimi contenuti. Grazie e alla prossima. Ciao!